I cari hanno windows per una razza. Tutti dovrebbero essere capito di piacere il viso, anche le persone che non possono. Devo dire la verità. Fondamentalmente uno potrebbe rispondere anche tutto. Mi piacerebbe tanto vedere un tramonto perché penso che vederlo con la persona che ami sia proprio la cosa più bella. Il viso di mia figlia, gli occhi di mia moglie, la cupola di Brunelleschi. La cima di una montagna innevata. We developed a new language to give people who can't see a landscape the chance to feel it. We created a device designed for the visually impaired that transmitts up to 255 levels of vibrations on the car window. The built-in camera takes a picture of the view. The picture is then converted into a grayscale image. Every shade of grey is translated into a vibration of different intensity on the car window, allowing the blind to visually experience the surrounding landscape. Also, an integrated vocal assistant connected to the car's audio system by an online artificial intelligence helps them to put the image into context. Montagna innevata. Montagna. 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 Grazie.